il prossimo anno finalmente compazzini che fanno? il prossimo anno saliamo com'è il passaggio della serie P di Serie C? è un campionato diverso, è più difficile, è un po' più equilibrato, è una squadra molto giovane, ci fanno sperare, magari con qualche inserimento mirato pensiamo di fare bene. Lo speriamo davvero, lo seguiremo, lo abbiamo seguito quest'anno, lo seguiremo ancora, grazie ovviamente anche a tutti i video a Gabriele Maio perché quelli che noi abbiamo anche proposto questa sera sono tutti realizzati da lui, che vi segue da vicino, in bocca a lungo davvero per questo finale di stagione perché è molto importante, grazie ovviamente a Rossella Puzzi, Giulia Galvani, Giulia Turzillo, Elena Binali, Guita Abazzini, grazie Luca!